Nel 1963 appunto una svolta nella carriera di Carlo Giuffre, la leggendaria Compagnia dei Giovani che era nata nel 1954, Giorgio De Lullo, regista, insieme a Rossella Falc, Romolo Valli e Elsa Albani proponevano un repertorio che per l'Italia era... Anna Maria Guarnieri, anche nel primo momento. Oh, guarda, e che cos'è? Il tuo corpo lasciato qua su questo divano. Ah, me lo prendo subito. Vinesci là, ti ho detto di no, 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 no. Cosa aveva di straordinario la Compagnia dei Giovani? Era soprattutto una compagnia di un'etica, di un'etica, di un'importanza, a parte la bellezza, l'estetica, ma l'etica soprattutto. E io mi ricordo che si provava questa fiacca da tutto il moggio e la Rossella Falc, che faceva Gigliola, la protagonista, finiva, prima di morire, a terra su un giaciglio. Provavamo in televisione dove a terra c'era così, come qua. Sì, c'era un pavimento. Lei stava a terra e questo c'era la Compagnia dei Giovani. Guardami, Fiso, guardami negli occhi, tu, che parli di vittime. Ben una che è stampata in fondo alla pupilla. O vedovo di Monica, marito della femmina Marsa.